Hanno portato al sequestro di due aziende cinesi del settore tessile, alla denuncia nei confronti di un imprenditore e all'elevazione di multe di diverse migliaia di euro, le indagini dei carabinieri della Compagnia di Urbino che hanno svolto durante i controlli in sei realtà attive tra Urbani e Cagli, insieme al nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri e all'Ispettorato del Lavoro dell'Area Vasta 1. Diverse dunque le infrazioni riscontrate dalle forze dell'ordine, che in origine avevano avviato una mirata attività di controllo sul rispetto delle normative anti-Covid. Alle violazioni in materia di sicurezza, con il mancato utilizzo di mascherine e prodotti per la sanificazione all'interno dei locali, si sono aggiunte le pessime condizioni igieniche riscontrate in alcune strutture e l'assenza di sistemi di riscaldamento funzionanti, situazioni che hanno quindi portato al sequestro di due fabbriche. Tra i 40 dipendenti totali delle sei aziende perquisite, i carabinieri hanno verificato la presenza di sette lavoratori sprovvisti di regolare contratto, e dunque in nero. Nei confronti di tre imprenditori sono state elevate sanzioni amministrative per un valore superiore ai 28 mila euro. Per uno di loro inoltre è scattata la denuncia a causa di alcune irregolarità relative al permesso di soggiorno. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso e i controlli proseguiranno anche nelle prossime giornate per rilevare eventuali nuove situazioni irregolari sul territorio.